Allora abbiamo chiesto all'inizio della nostra trasmissione di seguirci anche su Twitter e su Facebook mi segnalano da regia un tweet appena arrivato, Bruni Franco che dice Zaia la manifestazione di Milano ha detto Monti e Robin Hood al contrario ma perché tiene vive un'alleanza in Veneto con il PDL? Io non ho detto Robin Hood al contrario, ho detto che è lo sceriffo di Nottingham, è ben diverso nel senso che lo sceriffo di Nottingham controllava o meglio pretendeva di controllare la foresta di Sherwood Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri questo è il quadro ma al di là di queste battute della volontà di pensare a delle similitudini la verità è che noi vogliamo portare avanti in Veneto con molto senso di responsabilità un'alleanza che ha avuto il 63-64% delle preferenze dei Veneti e che sta rispettando in maniera pedissequa il programma che ha presentato dettagliato ai cittadini questo in altre parti, in ambienti molto più eruditi, si chiama rispetto del contratto sociale Rousseau diceva che i cittadini alleggono qualcuno perché li rappresentano non è che a corrente alternata possiamo attaccare e staccare la spina a seconda di quello che magari qualcuno pensa